Tanta voglia di tornare in campo, forse dopo la World League, è un'estate che fra la World League e qua che non vi ha lasciato del tutto tranquillo oggi, se visto che avevate proprio voglia di giocare. Sì, avevate tanta voglia di giocare, anche perché dopo un mese passa che sei in collegiale, ritiro qua a Cavalese e la voglia c'è, perché allenamento, 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 non sarà mai come una partita amichevole perché ti caricano, ti gasano, ti diverti. È stato un lungo periodo dove ci siamo allenati moltissimo, tantissimo e con tanta quantità secondo me e tanta qualità soprattutto. L'abbiamo sfruttato, adesso avremo ancora altri giorni comunque da sfruttare e cercheremo di migliorare ancora su tutti gli aspetti. Cosa ti senti di promettere ai tifosi in vista dell'europeo? Sarà un europeo importante, veniamo da un'annata un po' così insomma. Ma guarda, intanto io non, è andata così o così, quello che c'è stato è stato, sia positivo che negativo non c'entra, siamo concentrati su quello che facciamo adesso e per poi essere pronti per quello che succederà. promesse sono sempre un po' delle cose serie da fare, quindi voglio solo dire che comunque noi ci metteremo tutto l'anima, tutto l'impegno, tutto quello che abbiamo per poter portare in alto il nome dell'Italia. La partita di oggi comunque ha dimostrato che con i tuoi compagni hai un buon feeling, quelli che erano a Trento, quelli che arriveranno a Trento, anche con Luca Vettori. Sì, in questo mese qua ci sono serviti anche per queste cose qua, per mettere a posto certe cose, una di queste era il feeling tra me gli attaccanti, poi c'è anche tra i ricettori, insomma tante cose che pian piano con l'elemento li stiamo mettendo a posto e si è visto oggi perché abbiamo giocato una bellissima pallavolo. Avete anche dimostrato che sono un bel gruppo, date questa idea. Sì, se lo dici tu sono contento.